Siamo in uno dei territori più fortunati dal punto di vista del tema legato all'innovazione in quanto recentemente Torino è stata insignita del secondo posto come capitale europea dell'innovazione dopo Amsterdam e prima di Parigi, quindi questo è un territorio dove si contaminano forze che sui temi dell'innovazione sono particolarmente sensibili come le università, i centri di ricerca, gli incubatori e dove Intesa San Paolo ha il centro per l'innovazione di tutto il gruppo quindi a maggior ragione una scelta felice è quella di posizionare all'interno del nuovo centro direzionale il Grattacielo di Intesa San Paolo proprio la sede dell'innovazione di tutto il gruppo Intesa San Paolo un centinaio di persone, di specialisti dedicati a questo tema che seguono progetti molto innovativi dal punto di vista dello sviluppo delle imprese, nostre clienti e non solo di questo territorio abbiamo messo a punto una piattaforma che si chiama Tech Marketplace e che incrocia proprio la domanda e l'offerta di innovazione l'offerta che arriva dalle start up e dalle piccole e medie imprese innovative da una parte e dall'altra l'offerta che arriva proprio dalle start up la banca tramite questa piattaforma favorisce proprio questo incrocio e quindi tutti e tre gli attori coinvolti alla fine ne trarranno beneficio